Ah beh, le vostre mamme sono solo agitate. Forse hanno le mestruazioni tutto qui. È offensivo! Signor Garrison, Wendy e io la riteniamo una battuta sessista. Beh, mi dispiace Wendy, ma io non mi fido di una cosa che sanguina per cinque giorni e che non muore. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.